bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono maullo941 e oggi siamo tornati con un nuovo episodio la c'è sempre l'enderman che ci sta ci sta ci sta un attimino provocando quell'enderman siamo in un nuovo episodio dovrebbe essere l'episodio numero 30 signori che esce eccezionalmente di mercoledì adesso signori minecraft uscirà il giovedì e il mercoledì sacrificeremo un episodio della master league signori perché per un discorso di organizzazione riesco a organizzarmi meglio in questa maniera detto questo signori io mi sono rotto le scatole pesantemente facendo nuovi livelli in quel cazzarola di mob spawner e andando a fare cose nuove cercando di ottenere cose importanti da questo cazzarola di tavolo degli incantesimi e alla fine ci siamo riusciti signori abbiamo trovato un attimo la quadra della situazione vi faccio vedere un attimino qui cosa c'ho nell'inventario allora siamo riusciti a incantare un altro arco con indistruttibilità 1 e infinità e ci va di russo signori che illumineremo con questo e quindi abbiamo tutto poi siamo riusciti ad ottenere vari libri che non ci servono assolutamente a nulla abbiamo un contracolpo 2 abbiamo un contracolpo 2 che insieme al contracolpo 2 no quale cazzarola era? saccheggio 3 abbiamo ottenuto un saccheggio 3 sì e un indistruttibilità 3 protezione 2 che non mi ricordo se ci serve e un protezione 3 che non mi ricordo se ci serve avevamo anche trovato un saccheggio 2 ma non lo trovo più signori protezione indistruttibilità e saccheggio 3 no niente abbiamo un saccheggio 3 vediamo se me lo fa unire con la nostra spada per riuscire ad arrivare al saccheggio 3 ci proviamo vediamo cosa succede saccheggio 3 affilatezza 3 costo 6 perfetto signori poi abbiamo un protezione 3 protezione 2 indistruttibilità protezione 1 c'era un indistruttibilità 3 che andiamo a mettere nel nostro bellissimo piccone dai così costo 3 mi piace tantissimo questa cosa uniamo i due archi che mi sa che ora qui 15 livelli e so tanti però a noi ci servono e poi mi serve protezione 2 protezione 3 indistruttibilità protezione c'era qualche altra cosa che mi atterraggio mobile protezione 2 protezione 4 protezione 4 e protezione 4 si avevamo gli scarpini che avevamo trovato un protezione 2 e un protezione 3 e quindi possiamo progredire signori e portarlo quantomeno a un protezione no costo 3 non ho più livelli no non ci posso dire non abbiamo più livelli signori è finita così brevemente triste triste la situazione è finita in maniera molto triste però però va bene però va bene è andata così però però quantomeno ci siamo portati a casa un bel po' di cose e un bel po' di cose che noi non abbiamo cosa farce allora stiamo calmi stiamo calmi perché noi oggi dobbiamo partire per il nether signori partiremo oggi eh si partiremo decisamente oggi eh metto questo me lo devo portare stili bindo cazzola li metto facciamo una crafting table non ho abbastanza legno ah che stress che stress signori che stress terribile allora facciamo una cazzola di crafting table perfetto grazie gentilissimo si di crafting table di cesta questi sono bastoncini che ci portiamo dietro la andiamo a mettere vicino alla nostra zona degli incantesimi così sti libri intanto li spara pacchiamo lì dentro e così siamo belli tranquilli per ora dove la mettiamo la mettiamo qua dietro signori brutta in maniera brutta come poche la fai mettere lì bravissimo ok e mettici tutti questi libri che per il momento non so che farmene ok dopodichè questo lo possiamo indossare siamo a corto di un po' di tutto per partire per il nether abbiamo un elemento che secondo me era meglio incantarlo che cazzola di libri avevo lasciato facciato con protezione protezione no un'intristruttibilità intristruttibilità 1 che però non posso mettere perché ho un livello di esperienza grande grandissimo bene così bene così allora signori allora calma e sangue e freddo noi dobbiamo partire per il nether e la cosa già mi mette ansia mi mette abbastanza ansia questo ferro ce lo portiamo magari non tutto magari non tutto un pochino facciamo così e un pochino lo buttiamo lo buttiamo qui che tra l'altro non abbiamo ferro di ricambio ottimo 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 interessante questa cosa queste frecce le posso ammollare decisamente si me ne da semplicemente una che mettiamo lì tanto abbiamo l'arco con infinità e va bene allora non abbiamo legno non abbiamo pietra non abbiamo niente non abbiamo torce abbiamo pochissimo carbone ce l'ho del carbone ti prego dimmi che ho del carbone non abbiamo nemmeno l'ossidiana ottimo ma cosa cazzo mi stai dicendo signori questa missione da che doveva essere una missione di andiamo andiamo e partiamo per il nether a che sta finendo in una missione organizziamoci per andare al nether perché siamo messi proprio male 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 decisamente si dobbiamo scendere in caverna caverna che questa dovrà essere sistemata dobbiamo recuperare dei blocchi per forza del carbone pensavo di averci del carbone invece non abbiamo per nulla carbone aspetta ma qui non c'era carbone mi serve velocemente del carbone signori mi serve velocemente del carbone qui non c'è assolutamente nulla però intanto recupera della pietra dai così dai così dai così recuperiamo un po' di pietra che ci manca signori ci manca della pietra recuperiamo un pochino di pietra per avere dei primi blocchi da costruzione che non è brutta come idea quindi recuperiamo tutti questi blocchi da costruzione da questo materiale così sciotto e stupido recuperiamolo con calma e sangue freddo recuperiamo così potremmo recuperare anche del legno perché dobbiamo recuperare del legno per forza perché siamo a corto di legno quanti blocchi abbiamo 56 penso che per ora vadino bene mi serve del carbone però cazza rodi la miseria oh là ce n'è un po' là ce n'è un po' che col piccone fortuna dovremmo mannaggia qua chi non me lo dice pure mannaggia 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 allora stiamo calmi uno zombie sento zombie scheletri ovunque signori ma la cosa non ci interessa la cosa attualmente non ci interessa non possiamo perderci in chiacchiere qua blocchiamo l'acqua così così non siamo in pericolo di vita riusci a farmi allora abbiamo recuperato questo dai 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 rompi rompi tutto rompi tutto porca miseria dai 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 allora riusci ora a salire no perché c'è sto blocco che rompe le scatole quindi noi lo rompiamo violentemente ok ok perfetto recupera questo dai 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 cazzarola mi serve mi serve carbone come se non ci fossero domani dai 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 uno parte per una missione e poi ti ritrovi a fare tutt'altro porca di una miseria infame ok là c'è dell'altro carbone recuperiamo a quanto siamo 17 17 17 già sono buoni 17 dai dai guarda come se è bel carbone che ci sta là dai dai rompi tutto rompi tutto rompi tutto rompi tutto e recupera come se non ci fosse un domani dai è così bello bello recupera 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 dammi tutto il mio carbone dammi anche questo che mi serve come se non ci fosse un domani perfetto dammi rompi di là che magari becchiamo altro carbone neanche per il kaiser va bene va bene mi basta recuperare questa quanto siamo? 43 blocchi di carbone mi basta no? scusatemi io qua sento troppi mostri c'è del ferro ok c'è dell'oro che sinceramente mi prendo perché mi può tornare utile nel nether magari riusciamo a fare degli scambi interessanti aia aia dove cazzo l'ora sei mannaggia te muori bastardo allora la missione doveva essere tutt'altro signori la missione doveva essere decisamente tutt'altro perché ogni volta è così che partiamo per qualcosa e ci si trasforma in tutt'altro il rame non mi serve decisamente no questo è un vicolo chiuso qua c'è del ferro che però prendiamo signori il ferro lo possiamo prendere altro blocchetto di ferro grande altro blocchetto di ferro grande tac prendi sto ferro dai così torna su torna su torna su qua c'è del rame di là c'è tanto ferro però era meglio se c'era del del carbone sai sdagete preso al volo voi vedete del carbone per caso non ne vedo io recuperiamo giusto giusto questo ferro che dici ma che te devi fare del ferro nulla signori no il ferro è sempre utile la maggior ragione è che adesso abbiamo il piccone con fortuna signori la maggior ragione è che adesso abbiamo il piccone con fortuna il ferro torna molto utile no là non ce n'è il carbone non è che il ferro torna molto utile perché sento mostri ho sentito anche un piccignacolo che però non si è palesato il piccignacolo che non si è palesato dai così dai così dai così dai guarda quanto bel ferro dai così dai così dai così dai 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 va bene allora io direi che ce ne possiamo tornare anche a casa signore l'esplorazione quell'oro però è interessantissimo quell'oro quell'oro è interessantissimo ah è lì il piccignacolo da che cazzo lo sei caduto stupido mi metto lì la torcia prima che finisce qui la luce da dove sei caduto stupido di un piccignacolo ok proviamo a salire niente mi sono intrippato con la caverna signori che però per nostra fortuna finisce qui bene quindi a questo punto recuperiamo questo ferro qualche altro blocco che non dispiace mai recuperiamo l'oro dai così dai così dai recupera recupera acqua come se non ci fosse un domani ho paura di sapere cosa ci può essere qua dietro c'è uno zombie che gira su se stesso c'è dell'oro di là non mi sembra che ci sia un'uscita quindi signori noi un'uscita ce l'abbiamo ed è questa di qua e la andiamo a prendere velocemente e ce ne torniamo a casa via via veloci come il vento praticamente dai così sali 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 erano venuti per cercare del carbone è finita in un'esplorazione di caverna bene qua cosa c'è qualcosa che non abbiamo esplorato mi sa di si la esploreremo mi sa di no mi sono rotto le palle di tutto sto ferro però mi serve il carbone porca miseria perché non mi dare il carbone abbiamo finito le torce abbiamo finito anche lo spazio interessante lo spazio interessato l'abbiamo finito recupera sto ferro così al volo dai così recupera questo blocco ok diciamo che ce ne possiamo tornare tranquillamente a casa ok stavo saltando su me stesso ok via via veloci come il vento veloci come il vento purtroppo il ferro non ti dà esperienza se non quando lo cuoci però va bene il rame ci serve? no rame non ce ne serve signori qua c'è del ferro no qua c'è del carbone no noi veniamo da qua penso da questo lato ci dovrebbe essere la nostra scaletta magica che è questa di qua bene carbone per caso così a occhio a occhio carbone niente da fare andiamo torniamo su torniamo su eh 43 pezzi di carbone penso mi bastano signori però no non mi questo non mi serve per esempio questo non mi serve questo non mi serve le ossa non mi servono nemmeno quindi lo possiamo lasciare lì e tornarcene velocemente a casa che dire quando uno parte con un video e poi e poi si trasforma in tutt'altro ecco questa è la classica situazione praticamente dovevamo subito partire per il nether e invece ci siamo ritrovati ad andare a cercare materiali che non avevamo bene 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 complimenti a tutti complimenti a tutti a questo punto il video lo concludiamo con noi che andiamo a recuperare un poco di legna e poi signori chiudiamo il video qui off camera mi recupero quello che mi serve e ci vediamo direttamente quando siamo nel nether signori ci vediamo nel prossimo video che saremo nel nether alla ricerca della fortezza siamo organizzati per cercare la fortezza penso di sì penso di sì dovremmo essere organizzati abbiamo uno scudo abbiamo tutto dovremmo essere un attimino organizzati ci andrà bene penso di no penso di no signori però siamo qui per scoprirlo assieme siamo qui per scoprirlo assieme detto questo davanti alla porta di casa nostra io cambio l'inguadratura signori io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti urgenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao